Un giorno, rimettendo a posto la roba in camera, la signora Maria trova un bigliettino con il nome di una donna, nel taschino interno della giacca del marito medio. Alla sera, come il marito mette piede dentro casa, la moglie ti dà una padellata su un tasto che mi mette e ci lo lascia sic. Oh marì, ma che cazzo fai? Ti è devagata? Ah, ma so devagata, ve? So trovato un bigliettuccio dentro la giacca, porche! Il marito elaborando velocemente. Ah, so capito, ma no, marì, ma che vuoi pensare? Quello è un uomo di Luca Valle e gli amici miei si è venuta vincente ieri a Bologna, mica una femmina. E la moglie ti è spiaciuto? Oddio, mi perdona, ma... Tu lo sai come può essere la gelosia? Eh, la gelosia, so capito, ma potete fare pure un ucco più piani. Comunque dai, ne successe cosa. La prossima volta è magari finito un ucco di più. Il giorno dopo il marito torna a casa dal lavoro. Appena apre la porta ecco la moglie che gli ti frega un'anta padellata su un tasto, ma accide, eh? Oh porca, trovi un'altra volta! Ma che cazzo successe? Ah, che successe? Voi strunti? Te ha telefonato un cavallo.